. 2018.2.11 barra T1 Copyright News 1 e 1 barra 2 0. 1 barra 20 a con dieresi x a con con accento acuto negazione a barra verticale indicatore ordinale femminile chiocciola di t. u con dieresi 11 barra verticale di td e tislandese a con dieresi 2018 e uguale u con con accento grave a con dieresi virgola 1 barra 4 uguale minore di. negazione o barra tappi u con dieresi barra verticale chiocciola at oe ax oe grado chiocciola a oe tmy a con con accento acuto 1 barra 20 e tislandese u con con accento grave iso l grado. t u con dieresi h e a con con accento acuto grosso punto 20 barra rovesciata 9 u con dieresi x a, x oe di dp, 1 barra 20 a con dieresi a con con accento acuto x grosso punto euro d e tislandese grado x a con dieresi l. t a con dieresi 8 a ud. t chiocciola e negazione a e tislandese a con dieresi u con dieresi 1 barra 20. T. . Barra rovesciata virgola u con dieresi 1 barra 20 t a con dieresi axi sns barra verticale micro t. Que di islandese x h1 diese con carona e lunga con dieresi p negazione x, di a con dieresi. .